Qui devo fare una piccola premessa, vedrete delle immagini che potrebbero, anzi credo che vi spoilerino, una cosa che accadrà nella prossima puntata di SmackDown. Quindi se non volete avere anticipazioni è il momento di abbandonare il video, altrimenti restate. La notizia è questa, è molto semplice, durante l'ultima puntata dello show blue, in cronologia americana, tra il pubblico, eccolo qui, è comparso un cartellone di sostegno a Sasha Banks. Portato chiaramente nel palazzetto sportivo da un suo fan. È stato anche visto, ci sono le foto, andiamole a vedere qua su Twitter, eccolo qui, preso frontalmente, sopra la testa di Raquel Rodriguez. Però, cos'è successo? Sul sito ufficiale della WWE, quel cartellone è diventato muto, bianco. Chiaramente è stato specchiato con qualche programma che è andato a detergere la scritta pro Sasha. Ecco, voi cosa pensate di questa faccenda? Perché non è facile, secondo me, avere un'opinione. Se siete tifosi della Banks, sicuramente vedrete in WWE un comportamento sbagliato. Ma mettetevi anche nei panni della federazione, che pare non voglia più avere nulla a che fare con la lottatrice. Addirittura ci sono dei rumors che sostengono che le parti si sono separate già da qualche settimana, che ci sia stato addirittura un licenziamento silenzioso. E in quel caso perché dare vetrina e pubblicità a qualcuno che magari un domani andrà a lottare altrove? Perché tenerne vivo il ricordo come se potesse tornare in quella compagnia. E insomma, qua trovare una linea di demarcazione tra ciò che è corretto fare e ciò che non lo è, credo che sia complicato. Quindi mi affido alle vostre sensibilità. Ovviamente vi invito a digitare con educazione, ma ditemi cosa ne pensate di questa roba qua, qui sotto, nei commenti.